Sono 2.697 i positivi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 662.000 tamponi effettuati, mentre il tasso di positività si attesta allo 0,4%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 70 invece le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.423, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 355.